Scusami, pensavo che tu riuscissi a percepirla con il tuo Peter Prurito. Ti prego, non chiamarlo il mio Peter Prurito. Che succede? Puoi schivare i proiettili ma non le banane. No, è che ho bisogno di questa vacanza. Mi serve una pausa. Te la meriti. Sì. Sai che ti dico? Metti il coltume in valigia, non si sa mai. Ma come un prurito. Smettila di chiamarlo Prurito, mei! No, no, non lo muerto! Resta!